Le lavorazioni sottomarine alla ricerca di cimeli nelle navi britanniche affondate in queste acque 153 anni or sono durante la rivoluzione. Ecco un modello delle navi che giacciono nel fondo e dalle quali sono stati estratti pezzi di cannoni, stoviglie ed altri oggetti di uso domestico, perfino alcune bottiglie di vino ancora intatte. Grazie a tutti!